L'idea è partita dal fratello che conosco, che mi aveva detto appunto Flavio se gentilmente puoi fare il tuo certo, ci mancherebbe altro, fare un'azione di ricerca. Stamane infatti la prima idea che mi è venuta è quella di avermi dato una pattuglia sul posto. È stata l'intuizione del fratello, oltre alla prontezza di intervento della Polizia Provinciale, a salvare la vita Gianfranco Longo, il trevigiano che da quattro giorni non aveva più dato notizie di sé. Uscito senza indumenti, adatti, senza documenti, né denaro, aveva subito fatto allarmare la moglie, già in apprensione per lo stato di prostrazione psicologica del marito. Una prostrazione legata alla cassa integrazione e al pericolo di perdere nuovamente quel lavoro trovato alla Sanagens dopo tanta ricerca. Quattro lunghi giorni che ha trascorso poco distante dalla sua abitazione di via Borgo Fura a Sant'Antonino, vicino a quei laghetti dove va a pescare saltuariamente. La notizia è arrivata durante la conferenza stampa della provincia, terribili le condizioni in cui l'hanno ritrovato. Con una maglietta con mezza maniche, per cui quasi in stato di ipotermia termica, aveva una temperatura, mi diceva adesso il comandante, di 34 gradi. In stato confusionale l'unica cosa che è stato in grado di dire è stata quella di chiamatemi la moglie.